bentornati ad un nuovo video commento di una finale dei tornei del trono di spade 2.0 questo è il torneo che si è svolto a bologna da goblin bologna che ringraziamo per ospitato l'evento torneo svolto il 20 dicembre abbiamo Francesco D'Alessio con Targaryen Ferti sulla vostra sinistra e Mirko Pedrini con Baratheon Fedeltà sulla vostra destra ovviamente i due giocatori sono due giocatori possiamo dire nuovi del circuito quindi ci fa molto piacere oggi con me per commentare la partita abbiamo Matteo Savoca ciao ragazzi abbiamo Fabio Scott e abbiamo una new entry come commentatore abbiamo Davide Forti ciao a tutti per gli amici pacciocchino ecco va bene così dai 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 che stanno settappando vediamo un attimo intanto partiamo con un'altra finale di due mazzi che insomma non si vedono mai due mazzi un po' probabili a tre l'altro Francesco gliele mostra direttamente perché è superiore due piazze dei castrati e una strada degli ori immacolati ma il cazzarino ce l'hai da imparare qua mentre dall'altra parte abbiamo un bastardo un bastardo una fortezza e un cavalierino del cazzo si quelli che rubano quelli che scartano i punti che è insettato purtroppo giusto non funziona non pare abbiano mal ligato quindi probabilmente si sentono estremamente forti beh io ne approfitto per ringraziare Nicola Marchi che ha registrato la finale e ce l'ha spedita bravo Nicola poi mi dimentico va bene allora iniziamo vediamo siamo lasciati nella prima trama comunque vi ringraziamo perché questa volta le carte per il momento si vedono tutte sì sì diciamo che persino la carta a casa c'è un po' di mare perché la ripresa non è fissa però va bene ma è artistica no no ma va bene va bene ragazzi va benissimo tanto questa è la regista o qualcun altro l'ho già capito siete tremendi siete vabbè allora oh grande 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 Mirko Mirko ci sei piaciuto tantissimo Francesco vabbè 501 per scontare i nobili dappiamo l'unico castrato e personaggio che ci è nobile causa contro accuse sporche benissimo quindi vediamo un po' vediamo chi parte mi sembra di capire che Mirko abbia deciso di partire magari sta solo contando Iori ha contato Iori sulla fiducia prima di pescare ancora benissimo allora vediamo un po' sì decisamente parte parte Mirko sì sì ce la farà questa volta Baratheon contro Targaryen beh speriamo di sì beh speriamo dai vediamo set up è avanti a sto giro no vabbè sono lì sono lì sono lì ha uno scontino scontino ha sicuramente personaggi che al momento con cui sconta quindi paga tre e viene il follower è pieno di personaggi che muorono in un niente proprio comunque vabbè vabbè ha capito spara tre in sinerità adesso ci siamo levati il pensiero no la cosa forte secondo me la cosa forte secondo me appunto che comunque lui ha la red keep che gli aumenta la forza in potere durante il sfido di potere quindi magari non è così facile vincere la potere perché taggaglia magari eh perché l'altro non è venerissimo in mano no anche perché l'altro se gli vince la potere gli ammazza qualsiasi cosa aspetta paga tre paga tre sconta di due il lirio è uscito la mia versione è bionda sì è baffuta beh anche io so ma anche tu gli alzi che signorine io solo le signorine rialzo perché signorini ho paura a rialzarle il lirio a tutti io sono selettivo che quello vecchio era Galeazzi giusto scontino scontino paga uno scenderà scenderà e scenderà chi scende non scende scende Viserion 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 doppio 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 va bene e si tiene due ori per rialzare ci sta o per echilire il militare che non può tirare vediamo eh ha tenuto due ori davvero sì 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 beh allora è lacrima di Lys e e Dracarys vabbè dice no no è un vero uomo e quindi cosa gioca? ci stava pensando ci stavo pensando Sergio ora non è castrato ma anche lui va in bianco come ci insegnano tappato chiama punto tappato il panzone tappato il panzone lui dice non hai tenuto i ori giusto 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 e allora sfregio metto la coppia di giusto giusto allora iniziano con potere almeno indicavo potere sì così sembrerebbe potere potere notare che c'è la carta casa ancora bella riazzata del del Targaryen sì sì questo vorresti insinuare no niente niente comunque potrebbe essere anche una bocca cioè sparare un Dracarys su un personaggino di merda ti tappi un personaggio invece di farmi due sfide me ne fai solo una è vero ma da come lo sto vedendo no penso che io abbia dato un oppo sarà una militare o l'intrigo adesso penso che l'intrigo ma anche perché il militare non passa no anche l'intrigo anche l'intrigo io in realtà penso che sia sempre la stessa sfida che sta dichiarando una militare con una forza 4 esatto secondo me siamo ancora alla prima sfida penso che sia una militare troppo avanti siamo andati troppo avanti quindi ha salvato Viserion quindi ha perso una militare in contrastata salva Viserion benissimo e poi la prima sarà un potere poi gliel'ha lasciata a Noppo no infatti non è sul punto quindi ha deciso di attaccare con due personaggi per essere sicuro non si vede la carta a casa non si vede la carta a casa sì del barato ma adesso ce la facciamo potere lui potere gliela lascia in contrastata no militare scusate militare militare gliela lascia in contrastata muore quindi lui comunque ha deciso di non fargli sudare e di fargli pescare comunque due carte sì però ecco in questo caso vedete che comunque ha fatto in maniera tale che a lui non gli restasse sostanzialmente da fare o la militare o la potere no nel senso no non è vero tra l'altro perché non ha fatto la potere poteva fare sia la potere ma forse non entrava no non entrava non entrava non entrava intanto mi sembra che abbia scartato un varis eh mi sembra anche a me sì 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 interessante lui pesca due giustamente quindi baratan si avvantaggia con le carte in mano diciamo che il board è migliore quello di quello del targaryen ma probabilmente come carte in mano oddio migliore sì 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 beh dai come board è migliore decisamente migliore guarda lì ah scusa quello del targaryen rispetto a quello di baratan beh sì tutta la vita però come carte in mano tant'è che addirittura deve scartare ok vediamo vediamo continuo bene sì ricordiamo ha scartato perché aveva raggiunto il limite di carte in mano in posto della sua trama che era 6 se mi ricordo bene quindi va bene allora vediamo il nuovo giro mi pare di aver intravisto una calma su Westeros per il baratan quindi giochiamo calma su Westeros e cerco per farlo convocazione vediamo un po' cosa si andrà a pescare beh già vedi la differenza mia lui gioca la calma su Westeros io che sono un tamarro senza confini me ne battevo i coglioni di abbassargli la crema l'avversario infatti forse anche per quello che ho perso può essere un'idea può essere un'idea visto che l'avversario mi si è presentato con due claim 2 eh vabbè Teo ho capito però però le Wii trova Daenerys oh una Daenerys ma riesci a giocarla? no si 4, 5, 6, 7 con la Felti si con il sconto il Feltà quindi una Daenerys con Stelt eh? non la rialza per il momento per il momento no però a Stelt comunque potrebbe avere uno scontino in mano ancora potrebbe mettere giù una bella strada del Gae scontare di 2 tiene 2 ori si di 3 ma di 2 perché poi deve pagare un oro diventa uno sconto di 2 già sarà così forte sarà così forte l'ha fatto partire no non è così forte ha messo il loro ma comunque ci sta lo stesso metterla giù ce la fa vediamo se decide di fare solo quello o mettere magari beh comunque già metter giù Daenerys ti manda sì metter giù Daenerys mi sembra di aver intuito da questo mi tappo tutto che sì beh comunque a fine Bastava avanzava dall'altra parte ci sono veramente delle forze infime e lui comunque vediamo quanto è forte adesso perché abbiamo 5 ori c'è poco adesso è forte eh ma se ce l'avesse una Melisandre magari noi presumiamo che abbia dichiarato militare di karma sopra Westeros però ci sembra abbastanza probabile adesso lo scopriremo travedo anche un milk in manina del buon Baratheon che non è male il milk sopra la Daenerys io lo metterei perché infatti lo prende gli togliamo la pescata ci fa fin sui esperti che non sembra ma è fastidioso mica male anche Melisandre e dopo l'eventino quello anche certo beh ha tante opzioni adesso vediamo un po' cosa farà ma Melisandre non c'è perché fortunatamente riusciamo a vedere bene la mano del però come la chiama il nostro buon Davidino a Sinisa in mano Mihailovic c'è la stessa faccia Selize a Selize a Selize che un po' ci ricorda anche qualcun altro la stessa faccia sì va bene ok ma un follower una follower è entrata una follower questo perché boh e non ho capito va bene sì lo so io perché così dopo alla fine delle sfide muore la plot muore la plot ah il segnalino sulla plot il segnalino veleno sulla plot dopo questa io interdirei bacioco certo certo lui sta pensando io non so con quello che vedo in mano secondo me ci sarebbe poco da pensare però paga un oro dai no ce lo sta facendo ovviamente sudare non lo vedi paga un oro e bravo Mirko grazie no a un certo punto stavano perdendo le speranze l'altra un tavolo 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 dipinto tavolo dipinto che ha scontato con il felt giusto 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 bene vediamo un po' cosa succederà sì non so se non è fedeltà eh ciccio e allora noi qua siamo organizzatissimi con tutti i mazzi e allora c'è qualcosa che non torna nei costi perché aveva 5 ori trassato 3 4 5 6 può essere eh no ragazzi non è fedeltà si vede anche da qui tavolo dipinto non è fedeltà non è fedeltà aveva 5 ori vero sono 3 4 5 6 eh vabbè ma il milk forse è fedele milk è fedele a se stesso si è fedele gli spacciatori una carta neutrale fedele sarebbe carina quando ci sarà di nuovo la carta a casa neutrale se la rifaranno non lo so questo è uno spoiler una cosa che sto affrontando è che loro comunque sono cooperativi perché usano gli stessi ori e gli stessi punti potere se li passano questa cosa non è non è allora si ho scoperto che praticamente i due ragazzi sono abituati a sono due diciamo amici che giocano spesso insieme e quindi condividono ma e tra l'altro mi dicevano che normalmente no ma questo ve lo dico alla fine poi dopo ah ok condividono anche le donne si perché sono spoiler speriamo di no speriamo di no condividono vabbè vabbè stiamo travisando ragazzi non facciamo ingrazioni no 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 ci denunciano il lirio il lirio si china il lirio si piega giù secondo voi è un intrigo una potere guarda un po' quello che è ma tanto passa secondo me è una potere passa comunque no vabbè con potere no ma mi sono perso qualcosa sei sicuro? eh sì perché due più uno tre due di fortezza cinque no no comunque comunque era un intrigo e gli ho tolto che a quanto pare non era della calma di Westeros gli ho tolto un sim frames se non sbaglio visione 3 trattato visione 3 che invece era no neanche ah no è vero no perché è una una delle caratterie esatto nostra e la furia e vessilli esatto no no sì anche quello non poteva giocare i castrati sono tappati penso per una militare può essere o la potere una follower è andata quindi ce n'erano due prima in gioco quindi erano quattro personaggi quindi qualcuno è morto per foggia quindi tanto no era una potere perché ha ha vinto di potere ha inginocchiato e ha ucciso forza 2 quante ne sappiamo e poi una militare una militare che probabilmente ha vinto no non è detto che probabilmente rilascerà la no perché tanto a questo punto do per certo che sia claim 0 beh certo sì l'oppa no invece l'oppa per non fargli fare troppi punti perché no beh è già comunque il ragazzo è già 8 punti quindi gli dice giustamente sì perché sta cercando di fare una quarta sfida Francesco no vedo lo vedo indeciso intrigo perché forse ha fatto una potere con due personaggi può essere ah ok ok quindi questa sarà invece una militare intrigo no intrigo no intrigo l'ha già scattato l'illirio allora sarà una militare claim 0 quindi prima cosa ha difeso con quella penso abbia difeso l'intrigo no no non è possibile non ho capito perché abbia scattato la copia cioè io non riesco a capire veramente come cosa stia succedendo ah no aspetta lui penso che adesso abbia fatto d'illirio ha fatto potere no d'illirio ha fatto intrigo infatti ha risolto e ha scattato esatto quella è stata quella semplice è stata sicura poi dopo sono successe cose che non abbiamo capito ha fatto la potere con i castrati e e viserion perché altrimenti non passava forse per quello e quindi dopo è entrata la militare che però non ha cioè ha risolto ma ma non ha ucciso nessuno perché c'è la karma e ora ha oppato la sfida così difende prende in ginocchia così domina domina e gli ruba anche un punto per il tavolo che ricordiamo non essere felti ecco quindi insomma quindi che non poteva essere in gioco esatto quindi no o quello il milk sì o tutti e due vabbè l'ha scontato quello sì certo quindi va bene va bene mi raccomando ragazzi poi quando siete fra voi risolvete questa questione con l'antica maniera la schiaffa e pugna vediamo 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 se sarà stata risolutiva questa cosa di mettere giù togliamo il latte ok quindi la parte 611 che ci permette di chiamare due punti in più se dominiamo ah ok sì beh insomma comunque solo che poi sono quattro carte in mano però però barate diciamo punta scontiamo di felty scontiamo di felty giochiamo un'altra carta non fedele no probabilmente è un pelato vediamo un pelato sconta ancora ed è pelato 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 questa volta questa è gregaria questa è gregaria questa questa volta è sceso il pelato e un altro cavalline è quello che scarta un punticino da un personaggio così perché gli faceva schifo togliere la carta a casa ma probabilmente pensava che Magistro Ligus non sarebbe mai andato ma comunque togliere la carta a casa è sempre più sicuro sì siamo abbastanza d'accordo peggio di così potremmo solo togliere da Giora Mormon beh bene ma non benissimo anche se poi a quel punto la domanda sorge spontanea ma se togliamo un potere da Giora Mormon il signor veleno rimane sì certo che il signor il signor è indipendente dai punti che chiama Giora Mormon si sa mai nella vita vabbè vabbè diciamo di cattiveria pura è semplice d'accordo è chiara chiara chi è chiara diciamo che gli mancano i draghi un po' per rialzare quella vabbè ma tanto ha due ore per rialzare con Magistro Ligio quindi poco ci interessa vabbè ho capito va bene ok adesso come adesso è una devastazione mi pare che il barato non abbia fatto sfide oppure il barato non ha fatto sfide il barato non ha passato potrebbe essere sa che gli sarà trattato tre personaggi vai avanti te che mi vien da ridere 4 personaggi basta è finita è finita ragazzi allora spieghiamo un attimo cosa è successo velocemente che forse qualcuno non avrà intuito in questo turno sarebbero stati sicuramente tre morti per il barato perché c'erano la doppia militare è un morto di potere su cui lui non poteva fare niente e a quel punto essendoci addirittura un morto in più per la militare sarebbe rimasto con un personaggio in gioco forse 0 se non sono guardato forse 1 però vabbè 5 mi sembra un personaggio in gioco che probabilmente non durava niente dall'altra parte c'era il mondo comunque il morale della favola se trassi perdi esatto se trassi perdi scusa Mirko ma va bene va bene povero oppure se il culo vinci ricapitolando vince di nuovo Targaryen su Baratron possiamo anche dire che però Targaryen oggettivamente è il matchup peggiore del Baratron assolutamente sì e devo dire che questo Baratron per quanto poverino abbia provato a lottarsela era partito veramente male ricordiamo il motivo è semplice Targaryen ha il numero maggiore di effetti per riazzare i personaggi all'interno del matchup che servono e soprattutto piccola nota fare una sfida in più aiuta aiuta va bene con questo chiudiamo questa finale che è stata velocissima ringraziamo Francesco e Mirko Goblin Bologna che ha ospitato e bene con questo è tutto alla prossima ringrazio i ragazzi che hanno commentato i ragazzi hanno un nome però siete troppi va bene ciao buon anno a tutti ciao buon anno a tutti ciao a tutti al prossimo video ciao